Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 9 giugno. Italia è interessata da un vortice di bassa pressione colmo di aria fresca atlantica facente parte della perturbazione giunta alla fine di mercoledì. Il tempo previsto rovesce temporale ovunque, tranne Piemonte, Liguria, Ovest e Lombardia e Isole Maggiore. Rinfresca ovunque temperature massime intorno a 27-28 gradi solo su Piemonte e Sicilia, sotto 27 gradi altrove. Grazie.